Anche per questa nuova divisa della Juve, giornata non particolarmente calda, orario scelto, si parte con la rimessa laterale a sponda per Panico, cross in area Chiellini, possibilità Chiellini libera male e collo del sinistro. Alza il pallone, cerca Kuluzenski, il pallone è troppo lungo, ora Bove chiama e difende l'uscerimento di Nardi, attenzione alla Juve, scoperta centralmente, rischia ancora connessa. Altra parte Ronaldo, controllo di Ronaldo, arriva il sostegno di Alexandro, si muoverà, spazio sul lato di Alexandro, il cross di Alexandro di testa, va a intervenire Bove, non a saltare, c'è il taglio di Bonucci sul primo palo, la palla finisce proprio lì, chiuso, sale Chiellini, cerca la palla per Ramsey, di prima Ramsey per Alexandro. Buona trama qui della Juve con Kuluzenski però, Ronaldo riceve lontano dalla porta, va a calciare con il sinistro, un'infezione al dito, entrato invece nella seconda. Danilo, palla corta, Ronaldo altro tocco di ritorno per Rabiot, buona trama della Juve ma buona anche la copertura, il rientro difensivo del Novara. Adesso Ronaldo, McKennie, prova a giocare la palla in velocità di prima nel traffico la Juve, Ronaldo finisce giù e McKennie, aggredito da Panico, tiene il possesso, poi calcia. Tiro violento ma al centro della porta, non è vista centrale, anche mezzale eventualmente, giocatore di grande forza. Adesso Bonucci. Apertura sul lato di Alexandro, palla un po' lunga, ci arriva però Alexandro. Alexandro, cerca anche che sia la Juve, ha preso in mano la partita, adesso è il Novara che prova a fare il possesso palla, compressione però tra Bove e Cagnolini, abbastanza facile da leggere per Schiavi. Poi prova la soluzione dalla distanza al campo, un altro giocatore dopo il lockdown, il francese, chiuso bene il campionato, segnato anche un gran gol contro il Milan. La trama nello stretto della Juve, che ovviamente negli spazi intasati prova a far girare velocemente il pallone. Si muove sul secondo palo Ronaldo, la palla finisce su Ronaldo, recupera però il Novara che prova ad accelerare sulla corsia con Adrado. Non era facile sicuramente. Danilo a cercare dall'altra parte, Cisco, provato a calciare. Tanto corto, raddoppiato, Kuluzeski si gira, la palla sul sinistro, suo piede buono poi. Buona giocata di Ramsey, poi Bove in anticipo su Kuluzeski, mette la palla sul fondo. Sono rimasti Bonucci, Chiellini e Danilo dentro l'area di rigore. McKennie, Ronaldo, riceve scarica all'1-2 con Kuluzeski, il gol di Ronaldo. Biot, Ronaldo, 1-2, palla di ritorno è perfetta. La combinazione che ha coinvolto Kuluzeski. E Cristiano Ronaldo non perde mai l'abitudine. Ha dato anche 9 assist ai compagni. Adesso il Novara dall'altra parte del campo, arriva Bortolussi con Cisco che va a attaccare. Destra, diciamo così, a sostegno della punta Bortolussi. Qui molto bravo a spostare la palla già nel prossimo. I loro ospiti da qui a fine mercato al 5 di ottobre. Terra con il fraseggio, Rabiot alza il pallone cercando Alexandro. Tocco di prima per Quadrado. Raddoppio di schiavi, Quadrado a cercare la palla sul secondo pallo. C'è Alexandro. Pesa finito a terra su questo cross di Quadrado con McKennie che cercando la palla. E poi Novara che rischia e perde il pallone. McKennie cerca Kuluzeski. Calcia trovando la... Finta di Quadrado. Kuluzeski spalla la porta. Rabiot la palla sul sinistro. Non cerca il tiro. Le finte di Ronaldo che va sul sinistro. Prova a sfondare, raggiunge la linea di fondo. Poi porta a casa il calcio. Alexandro, contatto in area con Chiellini che è finito a terra. Sostiene Kuluzeski. Attenzione a Ramsey che ha tanto spazio. Viene servito sul profondo in area. Ramsey, Ramsey contro l'Anin. I cambi arriveranno non tutti insieme ma un po' alla volta nel corso del... Non riesce. La palla sul sinistro serve McKennie. Il tocco di ritorno per Ronaldo. Ronaldo non si fa sorprendere l'Anin. C'è Alexandro sul fondo. La palla attesa per Ramsey. Altra occasione per Ramsey per la seconda volta. Ronaldo che si accentra. Quadrado. Palla di ritorno per Ronaldo di Quadrado. McKennie si allunga il pallone. Poi nel tentativo di recuperarlo commette fallo. Razio, Ronaldo. Uno sguardo verso la porta. La conclusione larga di Ronaldo. Della porta di Ivan Lani. Alla ripresa. del gioco. Esce dal campo d'attacco. Comunque Buffon tra i pali che qui riceve da Demiral. Della Juve in area dove con la scosta pianice Ramsey. Pellegrini cerca il tiro con il destro. Pellegrini può crossare. La rimette. La palla quasi sbuca sul secondo palo. Tutto piazza. Il tiro deviato. Questa è un soffio. Non arriva a metterla dentro. Pellegrini. Lo scambio con Ramsey. Pellegrini prova a prendere il fondo. Buono voto nel 2018 a Novara. E l'assist di Douglas Costa per Ramsey. Che arriva con il corso del primo tempo. Raddoppia per la Juve. Eccolo qui. Bellissimo l'assist di Douglas Costa. Non si è visto tantissimo nel corso della sua prima annata. Juventolo. Possibilità di tiro di Ramsey che invece prova a restituire. Il senso sicuramente diverso al secondo tempo rispetto alle scelte iniziali. Intanto ti dico che tanto per questa azione di attacco a Novara. Cisco al limite. Rientra e calcia. Non riesce. Portanova. Nicolussi Caviglia nello stretto con Piazza. Ancora Piazza. Piazza. Ancora Douglas Costa. Novara che adesso ha grosse difficoltà nella ripartenza contro il pressing. La palla arriva Piazza. E doppio tentativo. 3-0 Juve nella ripresa. I gol di Ramsey e di Piazza. Vedete qui quanto sia efficace il pressing della Juve. Che da qualche minuto teneva lì Novara senza dare la possibilità alla scelta. Pellegrini. Bella giocata. L'1-2 con Piazza. Poi cerca il tocco per Rugani che era rimasto in area dopo il coro. In assoluto. Una delle chiavi direi del gioco moderno. Guardate Douglas Costa. Cerca il numero... Bentancur in verticale. Di Andrea Pirlo presente tutta la dirigenza della... Solti appuntamento con Calciomercato l'originale. Pellegrini. Il cross è intercettato. Quando il varco giusto serve Nicolussi Caviglia. Adesso Bentancur. L'apertura su Artur. Adesso fa vedere anche il limite. Desciglio. Piazza. È una posizione privilegiata. Qual è la sua? A te intanto. Perché Artur arriva al limite. Cerca la verticalizzazione. Per il taglio. Dunno contro Desciglio. Si aiuta un po' Desciglio. Ferma l'avversario. Adesso Rugani esce con... Non significativa. Sono sempre questi amichevoli quando poi iniziano tutti i cambi. Chiaro che la partita perde un po'... L'intensità. L'intensità. E' un'attività. Palla. Pettro l'area di rigore. Gira pallarino. Sul lato di Portanova. Che riesce a trovare. Il gollo del 4-0. Buon movimento in area. Per Portanova. Classi 2000. La segno. Quarto gol della Juve. Ecco qui. La verticalizzazione. La depilata. Portanova. Calciomercato. L'anni sotto il corpo del portiere del Romano. 4-0. Il novantesimo. Il primo motore di terra. Cora l'arbitro. Il passo per il giro di Mio. Il giro di Lazio. Manolo a Portanova. Il giro di 19 del Manno. Pellegrini. Pellegrini prova a sfondare. Arriva sul fondo. Ancora Pellegrini. La palla per Nicolussi. E poi la deviazione. Sottoporta. Ancora Portanova. Si è trovato sulla traiettoria del pallone. Calciato da Nicolussi Caviglia. Due gol nel recupero per Portanova. Rivediamo l'azione. Pellegrini va sul fondo. Tocca l'indietro. E poi ci mette la punta del piede. Portanova in posizione regolare però sul tentativo di Nicolussi Caviglia. Eccolo qui. Tradi... Passato crocon.